In vista delle elezioni amministrative di maggio, la Commissione regionale Pari Opportunità ha organizzato il 24 marzo a Palazzo Lascaris il convegno dal titolo Candidare le donne migliora la politica. Sempre in tema di donne e politica si concludono questa settimana le elezioni del corso di formazione organizzato dalla Consulta delle Lette. Più di 500 amministratrici hanno partecipato agli incontri che si sono tenuti da gennaio a marzo nelle otto province del Piemonte. Il materiale distribuito dai docenti e le registrazioni audio-video delle elezioni sono scaricabili dal sito del Consiglio regionale nella sezione della Consulta Lette.